Lo aveva promesso, vi farò sognare, la sorpresa è arrivata. Una valanga rosa in giunta, De Luca rivendica di aver scelto gli assessori in piena autonomia senza fare mercato. I partiti non ci sono, se ci sono sono rappresentati da volti, tutti da scoprire, da nomi con un'esperienza amministrativa tutta da guadagnare sul campo. E per il Premier Renzi questa squadra è un vero e proprio capolavoro. Ai dipendenti lancia un messaggio chiaro, la musica è cambiata, l'unico elemento di valutazione sarà il merito e la produttività. In regione non ci sarà più posto per lobby e bandiere di partito. Ma sulla distribuzione delle deleghe è già scoppiata la polemica. Si parla già del clan degli arechi e soprattutto si critica la scelta di lasciare per sé e il fedelissimo Bonavitacola tutte le deleghe più pesanti. Che De Luca sia un accentratore non lo si scopre oggi. Tra presidente e vice i settori più importanti sono tutti in mano loro, dai trasporti all'ambiente, dall'urbanistica al turismo, dalla cultura all'agricoltura. Per non parlare della sanità, di cui il governatore è commissario. Ma dietro questa scelta c'è una strategia ben precisa. Non è la logica dell'uomo solo al comando, sostengono fonti vicini al governatore, ma è l'atto di coraggio di chi in campagna elettorale si è assunto la responsabilità diretta sulle emergenze più gravi della campagna. Soprattutto nei primi mesi De Luca si gioca molto. Con Bonavitacola, il terzo salernitano che lavorerà dietro le quinte, il capo di gabinetto Sergio De Felice, si sentirà più tranquillo a costo di essere accusato di salernocentrismo. Ma chi sono i nuovi assessori regionali? Volti da dietro le quinte, professoroni da 110 lode, nessun nome mediatico. Serena Angioli, romana, di 52 anni, andrà ad occuparsi dei fondi europei. A Bruxelles l'Angioli c'è stata già più volte. È una macchina che conosce bene, ci ha lavorato al fianco dell'ex sottosegretario Pasquale Viespoli e con il governatore della Calabria, Scopelliti. Valeria Fascione, 48 anni, napoletana, ha già un'esperienza alla regione come dirigente ai contratti di programma con l'ex assessore Andrea Cozzolino. Si occuperà di internazionalizzazione e start-up. Lidia D'Alessio, docente di economia aziendale a Roma, titolare della cattedra di organizzazione aziendale alla LUIS, originaria di Caserta, sarà il nuovo assessore al bilancio. Lucia Fortini, 41 anni, napoletana, commercialista, già consulente all'istruzione degli ex assessori Buffardi e Gabriele durante l'era Bassolino, proviene dal giro migliorista dell'ex presidente napolitano e avrà la delega alla scuola e alle politiche sociali. Sonia Palmieri, 42 anni, siciliana, residente a Pierimonte Matese, avvocato lavorista, molto impegnata nel sociale, è amministratrice di Carisma, società di formazione, a lei De Luca ha affidato l'assessorato alle risorse umane e al lavoro. Chiara Marciani è il più giovane assessore della giunta De Luca, 37 anni, è sposata con due figli, si occuperà di formazione e pari opportunità, esperta dei POR e i programmi operativi regionali finanziati dal fondo comunitario. Amedeo Lepore, 57 anni, unico assessore ad avere un profilo più politico, proveniente dalla corrente migliorista del PD, docente di storia economica alla Seconda Università di Napoli e componente del CDA della Svimez, si occuperà di attività produttive. Infine Fulvio Bonavitacola, 57 anni, avvocato amministrativista, già deputato del PD, ha vinto la sfida a distanza con l'ex rettore Raimondo Pasquino ed è diventato vicepresidente. Ma ora dovrà scegliere tra Roma e Napoli. L'iter per l'incompatibilità è già stato avviato, al suo posto arriverà alla Camera un altro salernitano, Tonino Cuomo. Giovedì pomeriggio intanto si va in aula per l'insediamento del Consiglio regionale. In pole position per la Presidenza c'è sempre l'irpina del PD, Rosetta D'Amelio. De Luca dovrà leggere il programma di governo per i prossimi cinque anni e tra i primi impegni ci sarà l'incontro con il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris. Grazie a tutti.